Salve, se anche voi siete cosplayer, appassionati di fiere, fumetti e molto altro, allora non potrete mancare al nostro evento Officina Cosplay, il 29 aprile, vi vogliamo tutti numerosi. E ricordatevi c'è la scienza, science, e dopo Officina Cosplay non è finita, vi vogliamo anche a una tenda di fumetti il 27 maggio a Prato, concerti, giochi sul palco, gara cosplay e molti molti stand dove troverete un sacco di belli oggetti, ciao! Ci vediamo all'Officina! Yeah! Grazie a tutti!